Il Covid fa calare furti e arresti, ma non lo spaccio di droga. È il quadro emerso dal bilancio 2020-2021, presentato sabato scorso dalla Questura di Pesaro, che ha voluto celebrare il 169esimo anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia di Stato. Per il secondo anno consecutivo la pandemia da Covid ha imposto la massima sobrietà nelle celebrazioni, per questo anche a Pesaro non si è tenuta la consueta cerimonia pubblica, ma negli uffici di Via Flacco è stata comunque deposta una corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del questore Michele Todisco e del prefetto Vittorio Lapolla. Poi il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato nella nostra provincia relativo al periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021, che ha messo in evidenza come siano calati i reati, furti in casa soprattutto, ma anche quelli in autovetture, scippi e borseggi. Il numero di furti denunciato, ad esempio, si è dimezzato rispetto all'anno precedente, passando da 1.025 a 609. Un notevole decremento della criminalità in genere, diciamo, sul territorio. I reati predatori, in particolare i furti e i rapini, sono dimezzati. Non invece, e lo spazio che stai facendo, che i numeri sono quelli più o meno degli anni precedenti. Le chiusure hanno determinato naturalmente una difficoltà ulteriore per i criminali di raggiungere i loro obiettivi. Noi abbiamo fatto sacrifici enormi, non solo perché anche noi, come tutti, siamo stati colpiti dal virus, ma abbiamo impiegato tutto il personale, gran parte del personale, nell'attività di controllo delle disposizioni ministeriali che imponevano certe restrizioni. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente tutto il mio personale e gli altri colleghi delle forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le polizie locali che hanno svolto e stanno svolgendo in questo periodo un notevole lavoro e una grande collaborazione. Altro dato da non sottovalutare, dal bilancio illustrato è emerso che per quanto il virus abbia messo in ginocchio tantissime attività e imprese del territorio, non risultano infiltrazioni della mafia nel tessuto economico della provincia.